Tra i video più visti di questi giorni, di questa settimana, c'è un video simpaticissimo, il fallo di cioccolato, io non ce l'ho meno male, anche perché se lo sono mangiato ormai il fallo di cioccolato, il fallo di cioccolato Summer Edition, canale Federico Clavis. Di che cosa si tratta? Idea estiva di questo ragazzo che ha fatto realizzare un fallo, che cosa è un fallo? Non è un fallo quando... Ah, un fallo! No, non è quello il fallo, è un'altra cosa, vabbè, non lo diciamo. Il fallo di cioccolato per giocare con le ragazze e anche con i ragazzi, praticamente l'idea era quella, c'è anche la falletta, la falletta che porta questo fallo in mano, lo porge vicino alla bocca del simpatico capitato di turno, mentre fanno il video, uno, due, tre, e quello deve strillare. Ah, che fallo! E poi c'è il concorso, grande concorso, grande contest, o anche un premio, mi sembra una vacanza, e che praticamente a chi ha urlato meglio davanti al fallo di cioccolato. Poi chissà come è andato a finire questo fallo, se si è squagliato o no. Comunque questo è un video simpatico per farsi così, due risate in allegria. Il fallo di cioccolato Federico Clavis. Ok, quindi questa qui è la segnalazione che oggi, per esempio, nelle classifiche di YouTube, Charles, lo dà al secondo posto. Il link, eccolo qua. Eccolo, vai. Ciao!